Il cancro è un sintoma che qualcosa non va dentro di te. Il cancro è un campanello d'allarme che arriva a dirti ci sono cose che non vanno, devi rivedere qualcosa nella tua vita. L'inforodo sentinella è uno che se è colpito ci dice che il tumore è andato oltre. Bene, Elisa ne aveva ben 11 positivi. E poi mi hanno detto che c'è qualcosa che non va. Il cancro ti uccide anche psicologicamente perché è qualcosa che nasce dentro di te. Avevo la sensazione di avere qualcosa dentro di me che fosse un intruso. Sospetta K Cervice, K appunto, non lo sapevo per certo ma sospettavo se si trattasse di cancro. È stato ovviamente uno shock. Perché tutti noi comunque riteniamo che a noi non succederà, a noi non accadrà. Una cosa che mi ha sicuramente molto aiutata a mangiare, a bere, a stare serena è stata l'amorimana. E non ho incontrato una sola persona che mi abbia detto smetti. Tu non sei una vittima predestinata, sei un malato come ci sono tanti altri milioni malati in giro.